Resident Evil 7 Resident Evil 7 è pervaso da un male antico, strisciante e suddolo, rimasto in agguato per due decenni. Il settimo Biohazard non è solo un vero Resident Evil, ma è anche uno dei capitoli più tradizionali di sempre. Accanto ad una prospettiva nuova, incarnata dalla visuale in prima persona, c'è una struttura antica, classica, che riallaccia questo nuovo episodio con la trilogia originale. Resident Evil 7 torna insomma dove tutto è iniziato, in una casa corrotta da segreti indicibili, depravata dall'orrore di un morbo feroce. Quella di Resident Evil 7 è una storia di follia e ossessioni, il lungo rosoconto di una tortura fisica e mentale. Seguendo le tracce della moglie mia, scomparsa per anni e creduta morta, il nuovo protagonista Ethan si addentra nei meandri di una palude fetida, nel quale si staglia l'enorme casa dei Baker, sede degli orrori e dei riti maledetti di una famiglia malata. Nelle circa 11 ore che occorrono per portarlo a termine, il racconto resta molto sotto traccia, lasciando che il giocatore si confronti prima con la follia dei Baker e solo successivamente con importanti rivelazioni che riportano anche questo settimo capitolo all'interno della continuity della saga. Alcune fondamentali informazioni sono tuttavia nascoste all'interno dei documenti sparsi per le aree di gioco, un aspetto che invoglia il giocatore ad esplorare minuziosamente ogni minimo anfratto della magione. Resident Evil 7 è in fin dei conti un Resident Evil a tutti gli effetti. Se inizialmente sembra quasi che il titolo abbia deciso di trasformarsi in un horror puro, con un protagonista indifeso e praticamente senza armi, poco dopo l'opera ritrova l'anima tipica della saga, con pistole dai proiettili contati, con un inventario da gestire meticolosamente e con le classiche erbe verdi con cui preparare salvifiche soluzioni mediche. Resident Evil 7 è insomma un titolo rispettoso della propria eredità, ma capace di rileggerla e attualizzarla in maniera esemplare. Dentro c'è esattamente quello che avevamo bisogno di trovare. I nastri per salvare la partita, le serrature coi simboli degli animali e le casse con cui gestire l'inventario. Ritroveremo persino le ormai iconiche porte ad aprire lentamente, che il gioco ci sbatte in faccia grazie all'adozione della nuova inquadratura in prima persona. Tornare in un'area sicura a depositare le risorse appena raccolte, oppure a recuperare gli elementi necessari per venire a capo di un intricato rompicapo, rappresenta dunque un'impellenza che vi porterà poco a poco a conoscere a mena dito la struttura della casa dei Baker, alla ricerca di zone segrete o VHS che vi permetteranno di vivere alcune brevi ma concitate disavventure opzionali, nei panni di altri disgraziati ospiti dei Baker. Anche le boss fight sono d'antologia, scontri impegnativi e feroci, capace di farvi palpitare e di mettervi addosso uno spietato senso di mortifera urgenza. L'unico vero rammarico resta legato alla presenza di pochissime tipologie di nemici. Ad infestare la squallida magione troviamo infatti solamente i nauseanti micomorfi, creature composte dalle fibrose propaggini di funghi cancerosi. A tormentare il protagonista ci penseranno però soprattutto i membri della famiglia Baker, che si rivelano nemesi ostinate e onnipresenti. Gli attrezzi improbabili di Jack, gli insetti di Margaret, le trappole e gli enigmi del figlio Lucas, scandiscono quindi in maniera impeccabile l'avanzamento, rendendo l'incubo di Resident Evil 7 ancora più malato. Questo settimo capitolo è il primo titolo della serie ad utilizzare il re-engine, il motore proprietario di Capcom, leggero e malleabile, in grado di produrre un risultato complessivo decisamente efficace. Le texture e gli shader non sono sempre impeccabili ed inoltre un po' di aliasing sporca quale alla polizia dell'immagine. Tuttavia i modelli poligonali dei personaggi e delle ambientazioni risultano elaborati e credibili, complici le animazioni ben curate e le terrificanti espressioni facciali. Il re-engine punta insomma quasi tutto sull'atmosfera, riuscendo peraltro a costruire ambienti desolanti e opprimenti. L'illuminazione è ben concepita, con un particolare focus sui giochi di luce ed ombra, eccellenti per far sì che le claustrofobiche stanze della villa suscitino una profonda sensazione di insicurezza e disagio. L'opera gira inoltre a 60 frame al secondo, sostanzialmente senza intoppi che possono inficiare la godibilità dell'esperienza. Resident Evil 7 è un viaggio infernale, una completissima collezione dei temi e dei modi dell'orrore videoludico. Mescolando l'intimità dell'inquadratura in prima persona, il dosato backtracking e la gestione dell'inventario tipica dei survival, Resident Evil 7 riesce insomma in un'impresa che tutti credevano impossibile. Si rinnova senza snaturarsi, cammina in avanti mentre si volta a recuperare il suo glorioso passato e insomma risorge come gli zombie che ci aveva fatto conoscere vent'anni fa, re di vivo capolavoro deciso a rappresentare l'horror più iconico, significativo e degenere. Grazie a tutti.